Partenti, completata la curva di sinistra, la macchina entra ora nella retta delle tribune, prende gradualmente velocità, a pochi metri al punto dello stacco che avviene in questo istante, c'è la rottura di Ossimoro Jet, Maldonado attaccato da Odone MP, Ofigral, Maldonado, Odone allargo, Figral più all'esterno, lungo la corda, Orbetello allargo, viaggia anche notte di luna spin, poi Lima dei Greppi, Macua dei Greppi, Osiridevit, Ossimoro, rimesso, 14 per i primi 200 metri, quarto iniziale per Maldonado in 29 scarso, al termine del quale è apparigliato da Odone, il quale dopo 500 sfila al comando, Odone, Maldonado, Orbetello, Ofigral, notte di luna spin, largo muove Maldonado, va su Odone mentre ha sbagliato, numero 1, Orbetello, squalificato, un po' di problemi anche a Ofigral, intanto Maldonado è tornato al comando e passa agli 800 iniziali in un minuto, un bocco della curva conclusiva con Maldonado in vantaggio, Odone di rincalzo, poi notte di luna spin, siamo a metà della piegata conclusiva, con Maldonado in fuga, poi Odone, notte di luna al largo, mancano 400 metri al termine, Maldonado al comando, poi Odone, notte di luna, Maldonado ha lanciato la volata lunga, Odone lo segue lungo la corda, notte di luna all'esterno, retta di arrivo, Maldonado, notte di luna che prova l'aggancio, Odone lungo lo steccato al centropista, Macua dei greppi, notte di luna, va all'attacco di Maldonado che cerca la difesa, notte di luna, sembra avere argomenti migliori e nel finale notte di luna appariglia e poi sopravanza Maldonado, notte di luna spin, Maldonado prova a rientrare sul palo, notte di luna, Maldonado, Odone, Macua, Ofigral. Due minuti appena scarsi sul mio cronometro, la vittoria per notte di luna spin, 2.83 la quota al totalizzatore, Lorenzo Alessi Insalchi, il training di Maurizio Pieve, i colori della scuderia a roda, il tempo al chilometro intorno all'1.15.